C'è una voglia di buttar giù tutto, una voglia diffusa, alimentata giustamente da anche una certa stampa, dai mass media che hanno cavalcato o che comunque hanno dato spazio a delle proteste, proteste e accuse, non va, non va bene, la casta non va bene, è sfacciata, è lontana dai nostri bisogni e non riesce a recepire quello che sono i nostri bisogni, il nostro malcontento, questa è una stagione autunnale anche del malcontento e non riesce questa casta davvero a venirne fuori, ormai si autoalimenta e non riesce a venirne fuori, questa voglia però nostra di distruggere, l'abbiamo già avuta, quelle che c'erano, nel 92 l'abbiamo già avuta, l'abbiamo già avuta ricorrente nel 68, l'abbiamo già avuta per una generazione tipica, tipo quella giovanile nel 77, è ricorrente, questa voglia di distruggere è anche là dove le abbiamo già sperimentate queste voglie, abbiamo visto che la voglia di distruggere non coincide con la capacità di costruire, non coincide perché è facile, ci prende nella pancia, anche il grido di Beppe Grillo, dei comici ma anche di Sabina Guzzanti e poi vabbè di Daniele Luttazzi, ci sono tanti, adesso tanti, tre o quattro comici che hanno preso a fare il capo popolo e non il capo comico, allora nell'intervista che appare su Ara Perara con Paolo Rossi, capo comico, sì capo popolo mai, non prendiamoci troppo sul serio, dice noi in fondo siamo delle maschere, noi possiamo aiutare a ridere, a tirarci fuori, anche a far vedere aspetti grotteschi della situazione, ma non caricataci e soprattutto non illudiamoci noi comici di caricarci di un progetto che non sapremmo mettere in piedi, perché quando la parte facile, la parte destruenza, cioè il cumulo di maceria è stato fatto, a quel punto bisogna cominciare a costruire e allora tutti quelli che hanno distrutto, è della massa che ha partecipato con gioia, con grande gioia, inni cantava e ci beveva sopra, via, giù tutto, giù tutto, a quel punto lì cominciano a dividersi e cominciano, cosa costruiamo adesso? Beh ma si potrebbe fare, no no io ho idea di questo, no tu hai idea, calma, discutiamo tutti insieme, discutiamo tutti insieme, mi trovo mica a discutere con voi che non capita niente, ma no qui bisogna fare questo, questo e questo, no io ho bisogno veramente, avrei bisogno di altre cose, delle case, dei trasporti, di una scuola decente, di servizi decenti e ricordo, no ma qui bisogna produrre, facciamo un'altra grande fabbrica, vedete? E' la parte costruttiva del progetto, perché la fuga di massa, scappare da qualcosa è facile, sapere e condividere la scelta di andare verso qualcosa è la parte più difficile, è la parte della democrazia, è la parte faticosa della democrazia ed è la parte che ci rende davvero però intelligenti, liberi, coscienti di quello che si fa, cominciamo noi, accusare gli altri è facile, cominciamo noi a essere intelligenti, per essere intelligenti ci vuole fatica, vabbè.